tutte, quasi tutte accomunate dallo svolgimento dell'attività della prostituzione, quindi sono persone deboli, indifese e in un certo senso ai margini della società. Buonasera, questa sera vi raccontiamo la storia di Maurizio Minghella, meglio noto come il serial killer del motorino. Vi raccontiamo la storia dei delitti che ha commesso mentre era in regime di semi-libertà, per ragionare con voi su un tema di particolare attualità appunto, la semi-libertà. Iniziamo il racconto partendo dal processo celebrato a Torino, nella corte tassise di Torino e presieduta dal dottor Francesco Giordano proprio contro di lui. Ma chi era Maurizio Minghella? Dunque Minghella nasce nel 1958 a Genova, il padre naturale, personale, persona violenta, manesca ed alcolista. Il padre abbandona la famiglia quando Maurizio Minghella, ultimo di quattro figli, è ancora tanto piccolo da non avere alcun ricordo di lui. La madre convive in seguito con uno stracivendolo, anche lui violento e alcolista, finito in carcere per tentato omicidio. Rimane alle scuole elementari speciali per nove anni. In nove anni riesce a ottenere la seconda elementare. Ce la promuovono dalla prima alla seconda, poi per otto anni fa sempre la seconda elementare, non riesce ad andare oltre. Nei confronti dei compagni è piuttosto pericoloso, poiché li prende per il collo e gli tappa la bocca del naso in modo che non possano gridare. Maurizio Minghella ama ballare e vestirsi alla moda. Frequenta una palestra di pugilato, da cui viene cacciato perché picchia troppo duro. L'unica figura nei cui confronti esprime una certa commozione è la madre. Inizia fin da minorenne a commettere piccoli reati. E' un ragazzo immaturo, affetto da una spiccata balbuzia emotiva. Nel 1977, verso Natale, si sposa. A 19 anni sposa una ragazza di 15 anni, tossicodipendente. Dal ritorno del viaggio di nozze, la ragazza ha un aborto spontaneo. La vista del sangue, racconta Minghella, lo colpisce profondamente. A 20 anni, gli muore un fratello in un incidente di moto e da allora comincia a frequentare l'obitorio di Genova per sentire le grida di dolore e vedere cadaveri di giovani. Nel 1981 viene condannato all'ergastolo per quattro delitti commessi a Genova, tutti nell'anno 1979. Si tratta di quattro giovani prostitute, violentate e strangolate. Nel 1995, dopo 17 anni di reclusione, gli viene concessa la semilibertà. Viene trasferito a Torino, dove lavora come falegname presso una cooperativa. Sembra che si stia ricostruendo una vita e incontra una giovane donna, Monica. Come era con te, gentile? Sì, al mattino, quando arrivava, apriva la porta, mi portava il caffè con la brioche, una rosa, poi mi ha detto, voi vedete che è rimasta incinta. Lì era tutto contento. Più lui che io. A Maurizio Minghella viene concessa la semilibertà, quindi, perché ha compiuto un percorso valido e importante nel suo reinserimento nella società. E infatti conduce a Torino una vita apparentemente normale, quando nel 2001, sempre a Torino, viene uccisa una giovane prostituta, Motoc Florentina. Iniziamo adesso alla disamina della vicenda Motoc Florentina. Erano verso le 11, al mattino saranno stati 11 meno 10, ho deciso di andare a tagliare degli arbusti per fare una scopa. Scusatemi, ma è così. In lontananza vedo qualcosa di strano, ma non ho pensato niente perché io stavo cercando questi arbusti. Ho fatto ancora qualche passo e ho detto, ma è strano che ci sia un materasso, un manichino per fare un'ipotesi, in lontananza. Sono ancora davanti un po', poi mi sono fermato. C'era qualcosa di strano. Arriva il signor Luigi Bruno e mi dice, hai mica visto qualcosa di strano? Siamo andati e quando ci siamo inoltrati nel canale ci ha detto, sì, effettivamente è un cadavere di una prostituta, di una donna, non lo so. Il cadavere era quello di una ragazza bianca tra i 20 e i 30 anni, completamente nuda, ad eccezione di uno stivale al piede sinistro. Il corpo presentava evidenti bruciature agli arti inferiori, ai glutei e alle braccia. Vi era inoltre una profonda ferita sul capo e ampi ematomi sul volto. Al collo c'era un laccio che era costituito da una calza di nylon, la quale era relativamente lassa, non strettissima come si vede in altri strangolamenti, però era collegata con i polsi che erano legati posteriormente sul dorso. Questo tipo di legatura ha messo in atto un meccanismo asfissiante che ne ha provocato la morte. La ragazza è stata prima picchiata, poi strangolata e infine bruciata. L'orologio al polso della donna era fermo alle 16 e 46. Non c'è dignità neanche nel morire in questo modo, ove mai la morte possa essere in qualche maniera, in qualche misura dignitosa. Si risale all'identità della giovane donna partendo dal suo cellulare che l'assassino, commettendo il suo primo errore, ha lasciato sul posto. Ed infatti gli inquirenti telefonano e parlano con i familiari della giovane donna. E abbiamo parlato con i parenti e i conoscenti di Tina. Quindi è stata la polizia a dire ai parenti di Tina, è morta. Loro non lo sapevano che era morta. E nel corso di queste telefonate venivano anche apprese le esatte generalità della giovane. Era nata a Doroi, un paese a nord della Romania, al confine con la Moldavia. Il 5 di febbraio del 1980. Era madre di una bambina, bambina che si chiama Nicoletta Lavinia, nata il 26 novembre del 1999. Lei ha conosciuto una donna che si prostituiva in quella zona, che si faceva chiamare Tina? Eh sì, purtroppo sì. Era una ragazza molto riservata. Da noi non veniva proprio. E non veniva nemmeno in abiti, diciamo, minigone, che veniva sempre come una ragazza normale. Capitava che dopo mezzogiornata che era lì al freddo, avesse freddo, entrava nel chiosco a scaldarsi per dieci minuti, un quarto d'ora. Tina aveva qualche cliente che lei sappia che la raggiungeva non in auto ma in motorino? Non ho mai visto le ragazze, nessuna di quelle che ho conosciuto io, che fosse salita sul motorino. Dalla 500 all'autotreno, sì, ma sul motorino mai visto. Maurizio Minghella si spostava sempre solo in motorino, ma ancora una volta è il cellulare della giovane vittima che aiuta gli inquirenti. Infatti rivela che alle 16 e 11 una sua amica, Lux Michela, ha chiamato Tina. Dice Dio quel giorno l'ho chiamata al telefono e ho sentito chiaramente la voce di Tina gridare no, no, no. Successivamente il telefono di Tina è stato spento. Io ho provato a richiamarla nella stessa giornata e nei giorni successivi, ma non sono riuscita a mettermi in contatto con Tina. Tina era sicuramente in vita almeno fino alle ore 16 ed 11 di quel 9 febbraio 2019. 2001. Esattamente dopo quella data nessuno l'ha più vista. Ed è sempre l'analisi del cellulare, dei suoi tabulati, che fornisce agli inquirenti un importantissimo indizio. Quindi in sostanza cosa è capitato? Quel telefono alle 16 e 11 del 9 febbraio 2001 era in possesso di Motoc che risponde e la Luxi ci dice l'ho sentita gridare no, no, no. Alle 21 e 02, quindi alle ore 9, della sera, quel telefono era in possesso della convivente di Minghella Maurizio. Quindi abbiamo chiesto a Ferri Maristella, abbiamo chiesto ma chi ti ha dato questo telefono? E Maristella dopo molte menzogne e reticenze confesserà che a regalarle, a darle in regalo quel telefonino è stato proprio Maurizio Minghella la sera del 9 febbraio. E ancora che Maurizio Minghella sia stato sul luogo del delitto, questa volta lo denunciano le sue scarpe. Tra i ciottoli prelevati appunto dal fondo degli scarponcini dell'indagato sono stati trovati resti di una roccia che si chiama peridotite. Io ho esaminato un po' materiali che vengono da tutto il Piemonte e sono rimasto colpito quando io ho visto questi piccoli ciottoli di proiettivi perché sono estremamente rari. Invece tra i ciottoli intrappolati nella suola di queste scarpe erano la maggioranza. Allora siamo andati a esaminare i materiali raccolti sul fondo di questo canale e anche lì erano la maggioranza, come mi aspettavo conoscendo la geologia dell'area. E quindi alla domanda fatta dal Pubblico Ministero che era se erano compatibili le ghiaie trovate in loco con le ghiaie trovate intrappolate noi abbiamo dovuto dire sì perché questa era una coincidenza che era univoca. Cioè non c'erano dubbi al riguardo. Andiamo a vedere poi dove era Maurizio Minghella il 9 febbraio del 2001. Siamo andati a vedere presso la cooperativa Pioreggiani. Abbiamo chiesto loro ma il 9 febbraio dove era? E loro ci trasmettono una serie di documentazioni dove risultava trasferta al Pignano. Quindi dalla documentazione della cooperativa veniva fuori un alibi di ferro per Minghella-Maurizio. Sappiamo che Maurizio Minghella lavorava presso una cooperativa sociale perché questo lo doveva aiutare in regime di semelibertà a reinserirsi nella società. E infatti la cooperativa offre a Minghella un alibi di ferro perché dice era da noi. Ma purtroppo il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e dall'analisi del cellulare, del tabulato, del cellulare di Maurizio Minghella risulta che quella mattina Minghella non era in cooperativa ma era a casa sua. Quindi noi abbiamo chiesto agli operatori della cooperativa guardate che dai tabulati telefonici risulta che Maurizio quel giorno, il 9 febbraio, è stato a casa sua. Dite la verità, dite come sono andate le cose. Maurizio quella mattina telefonò per dire che non stava bene e noi acconsentimmo che lui stesse a casa. Minghella rimane a casa mentre in quanto semilibero e ammalato sarebbe dovuto tornare presso la casa circondariale. Ma perché Maurizio Minghella nel suo certificato personale di semilibero risultava essere fuori dalla cooperativa ad Alpignano? I fatti sono andati così. Mandai due assistenti che erano con me in pattuglia all'interno della cooperativa e io ho preso contatto con una responsabile della cooperativa, il signor Craveri che riferì al personale dipendente che il semilibero era uscito dalla cooperativa in quanto lavorava presso un cantiere sito in Alpignano. Paolo Peretti, il responsabile della produzione, mi chiese di scendere per parlare con la polizia che era venuta per cercare Minghella e in quella circostanza Minghella non era inditta. Io sono abbastanza emotivo, sapevo che avremmo raccontato questa bugia. Allora sono andato a chiamare, non sentendomela io direttamente, sono andato a chiamare Craveri chiedendogli appunto di raccontare questa cosa e di intrattenere la questura mentre noi cercavamo di recuperare Maurizio. Prendo la mia macchina e vado alla casa della sua ragazza per prendere, per parlargli. Entro dentro e arrivo a suonare direttamente alla casa. Gli suono, busso alla porta e nessuno mi risponde, al che scendo giù per andare via. E in quel momento l'incrocio con lui in macchina con la sua ragazza e lo vedo. E lo fermo, gli dico vieni subito in cooperativa perché ti hanno cercato e lo riaccompagno in cooperativa. E lì stette un paio d'ore, dopodiché effettivamente non era in grado di lavorare, per cui verso tarda mattinata, 11 e mezza, 11 e mezza, mezzogiorno, gli dicevamo di tornare a casa. Era inutile che stesse nell'ambiente di lavoro, non potendo lavorare. Dopo tutto quello che era capitato la mattina, di nuovo lo rimandate via? Stava male. Sì, ci siamo rimessi nella stessa condizione di rischio. Di sicuro abbiamo commesso una leggerezza. Lei sapeva per i reati per i quali era stato condannato il Minghella? No, io allora non sapevo. Ho scoperto tutto sui giornali, non sapevo nulla della sua... Ma negli anni si era meritato la fiducia nostra, in quanto non mancava mai, era un personaggio estremamente produttivo, aiutato anche dalla sua forza fisica, riusciva a fare cose che normalmente magari si facevano in due, le faceva da solo. Ed era comunque un personaggio, una persona disponibile, presente in cooperativa, per cui, sapendo che lui avrebbe dovuto rimanere in carcere se stava male, è successo due o tre volte che abbiamo detto, vabbè, se stai male, stai a casa, tieniti solo reperibili, in modo che se passa un controllo possiamo recuperarti. Se questi signori avessero compiuto diligentemente e correttamente il proprio lavoro e con scrupolo avessero vigilato come devono e avrebbero dovuto fare su persone del calibro di Maurizio Minghella, oggi forse non saremmo qui a discutere di un orrendo omicidio reso possibile anche a causa di quella grave, inqualificabile e colpevole negligenza. Gli indizi a carico di Maurizio Minghella per l'uccisione e l'omicidio di Tina Motoc sono assolutamente schiaccianti. A questo punto, quindi, gli inquirenti indagano su tutti gli omicidi commessi a carico di prostitute e rimasti insoluti, commessi a Torino dal 1996, la data in cui Minghella ha goduto dalla semilibertà, per vedere se anche di questi lui è il colpevole. Passiamo ora brevemente ad analizzare il delitto commesso ai danni della donna sconosciuta Carmagnola. Sì, era agosto, verso il 18-20 di agosto. Era del 96? Del 96. Sulla strada che conduce alle cave provana vi era un corpo umano, diciamo così, semicarmonizzato. Si trattava di un cadavere di un soggetto di sesso femminile in cui, di primo acchito, il reperto più vistoso era il fatto che c'erano dei segni di combustione. Per quanto riguarda le cause della morte, c'erano una ferita lacero contusa alla testa, ben infiltrata di sangue e quindi sofferta in vita. C'erano delle vistose ecchimosi al collo, dei segni che sono quelli che normalmente si trovano nelle morti per assistia meccanica. Queste assistie possono essere prodotte o da lacci e allora parleremo di strangolamento, o dalle mani e allora parliamo di strozzamento. Aggiungo che si sono osservate delle scoriazioni e delle ecchimosi sulla lingua. Questo è un segno che spesso si osserva quando all'azione meccanica violenta sul collo si associa a un'azione volta ad occludere gli orifizi naturali del volto. Questo si chiama soffocamento. Maresciallo, in quella zona sollevano appartarsi prostitute? In genere sostava una o due donne di colore, donne bianche non ne ho mai viste io. In quel punto lì, su questa strada privata, che conduce la cava. La donna è stata completamente bruciata e quindi i dati a disposizione degli inquirenti sono pochissimi. Inoltre in quella zona si prostituivano quasi esclusivamente ragazze di colore. Allora il primo quesito che si pongono è questo, gli inquirenti è questo. La donna è stata uccisa e bruciata sul posto oppure è stata portata lì solo per essere bruciata? Sentiamo la risposta. La combustione è avvenuta in quel posto, non c'è motivo di pensare, cioè non solo non c'è motivo di pensare che possa essere avvenuta altrove, ma direi che vi è certezza sul fatto che è avvenuta proprio nel luogo del rinvenimento. E abbiamo ancora considerato la possibilità che questa persona possa essere morta in altro luogo e poi trasportata sul posto del rinvenimento e quindi dato alle fiamme il cadavere. C'erano feci carbonizzate nel sopralluogo, feci carbonizzate al suolo in prossimità del perineo. Ora vorrei far presente che la perdita di feci è piuttosto caratteristica della fase convulsiva dell'asfissia meccanica. Direi che il fatto di trovarle al suolo e carbonizzate in quella sede fa pensare, è un ulteriore elemento che fa pensare che il cadavere non sia stato spostato. La donna è stata quindi uccisa e bruciata sul posto, ma questi sono gli unici due indizi a disposizione degli inquirenti. Il cadavere della ragazza non è mai stato identificato e nessuno ne ha richiesto a tutt'oggi il corpo. Quindi il caso era stato archiviato, quando, dopo l'arresto di Maurizio Minghella per l'omicidio di Motto con Florentina, viene riascoltata la testimonianza di una donna che all'epoca dei fatti aveva fatto uno strano incontro. Mi ricordo che era agosto, sicurissimo, tra Ferragosto e qualche giorno dopo, perché è una data precisa per me, perché tutti gli anni a Ferragosto faccio la conserva di pomodori, perché costano meno in quel periodo. Era di domenica, un giorno di domenica era, perché non c'erano i miei figli a casa, niente. Stavo facendo sta conserva, ho preso l'immondizia, sono andata fuori, che poco distante da casa mia c'è il bidone dell'immondizia. Mentre uscivo ho visto un signore arrivare dalla strada che arriva da Carmagnola, a piedi, vestito un po' sporco di terra, aveva una tannica di benzina in mano. Mi ha guardata, si è fermata un attimo, mi ha guardata, io sono rimasta impressa dello sguardo, non peraltro, e l'episodio è finito lì. Al lunedì però, io sono abbonata alla stampa, alla domenica non la ricevo, perché mi arriva tramite a posta. Arrivata il lunedì mattina, non l'ho aperta. L'ho aperta al pomeriggio, e vedo che si è stata bruciata una ragazza, trovata una ragazza bruciata. Un articolo con la notizia del ritrovamento? Sì. E allora così con mia figlia ho parlato, ho detto, sarà mica quel signore lì che ho visto ieri, così. E allora sono andata in caserma, glielo ho detto, e poi mi hanno fatto vedere delle foto, dopo un po' di giorni, insomma, io non ho riconosciuto nessuno. Però, già allora gli avevo detto che era una persona con un viso un po' vale che, adesso farà ridere però, assomigliavo a quel signore della barba dei 3-3, l'avevo già detto allora, continuo a dirlo adesso. E quant'è che ha riconosciuto? E poi sono passati tutti questi anni, io sono stata convocata in questura, e poi mi hanno fatto fare un confronto dietro i vetri, con delle persone, e ho indicato una persona, le ho fatte venire avanti, e gli ho detto che sono passati tanti anni, ma l'80% per me era lui. Poco credibile la identificazione della signora Golzio, perché io all'udienza ho prodotto quella fotografia, quel personaggio, dello spettacolo, ecco, ma quella persona lì, assomiglia a Minghella, come io posso assomigliare a Richard Gere, perché non credo che per donna bianca sconosciuta ci sia qualcosa che possa confortare una sentenza di condanno. Maurizio Minghella viene anche sospettato per un altro omicidio, sempre di una prostituta, sempre commesso a Torino, il 24 maggio del 1997, Didou Fatima. Didou Fatima nasce in Marocco il 9 di febbraio del 1970. Seasons came and changed the time When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play Bang Bang Noi ragazzini ci eravamo fatti tipo una pista con i motorini, quasi tutti i giorni andavamo lì. Appena ho visto la ragazza, sono andato a casa, gli ho detto mio papà, io ero ancora minorenno, abbiamo chiamato i carabinieri e basta. Era un campo, diciamo, di erba e lì il corpo era disteso, bocconi a terra, con una maglietta, ricordo, avesse una maglietta celeste e poi i pantaloni erano giù e anche le mutandine aveva giù. Allora, circa la causa della morte, anche qui non vi è dubbio, è una morte per asfissia meccanica da strangolamento. C'era un particolare, piuttosto, diciamo, insolito, che derivava dall'esame, dall'esame esterno dei genitali della donna. L'atteggiamento dei genitali esterni, quindi delle grandi e delle piccole labbra, era un atteggiamento particolare perché era un atteggiamento in apertura. Ecco, tutto questo nell'insieme mi fa dire che si deve esaminare con particolare attenzione l'ipotesi che la morte sia avvenuta immediatamente dopo o coeva a un atto sessuale. E quando ha saputo della morte di Fatima? Io l'ho saputo, dire la verità, l'ho saputo quando ho chiamato il mio paese e mi hanno detto guarda che qua si sente che Fatima è morta. Allora, a quel momento l'ho saputo. La donna si trova lontano dal suo posto di lavoro, veste i jeans, un indumento poco adatto alla prostituzione e quindi gli inquirenti sono portati a pensare che non sia stato un cliente ad ucciderla. C'è un unico dato certo ed è un preservativo trovato sulla coscia destra della donna e ne viene fatta l'analisi del DNA. però in allora cioè nel 98 non era conosciuto il profilo genetico dell'individuo immerso nel preservativo. Non era inserito in banca dati quel profilo genetico. Abbiamo capito che quel profilo genetico apparteneva all'imputato Minghella Maurizio nel marzo 2001 quando i dottori Gino e Robino andranno ad estrarre il profilo, il DNA di Minghella in occasione della vicenda Motoc-Florentina e riscontreranno che il materiale biologico presente nel profilattico appartiene a Minghella Maurizio. Una donna felice era con me comunque. Io non so come è andata a finire questa storia qui non riesco a capire neanche io. Guido Cosima conosciuta con il nome di Gina è nata a Taranto il 31 di marzo del 1932 è stata uccisa il 30 di gennaio 99 al momento in cui è stata uccisa aveva 66 anni. Gina era una vecchia ragazza di vita una persona che era conosciuta da tutti nella zona di Piazza Palazzo di Città e tutti i testimoni hanno riferito del suo garbo e della sua umanità. La donna era solita attendere i clienti nei pressi dell'ingresso dell'allora Procura della Repubblica presso l'apertura. La donna si sedeva lì su un blocco in cemento la ricordo anch'io la ricordo che nei mesi invernali talvolta si recava in aula A quella al Pianterreno dove si tengono i giudizi direttissimi e si scaldava lì assisteva ai processi. Oggi però il processo riguarda lei riguarda Guido Cosima e riguarda Guido Cosima come vittima di omicidio. lei era coniugato con Guido Cosima sì in che anno vi eravate sposato? l'anno 73 dal 73 era una moglie una vera moglie era per me io l'ho conosciuto in una sala di ballo perché io vado di sala di ballo e allora ci siamo conosciuti lì e ballava bene? ballava bene come ballava io e che cosa ballavate insieme? è liscio ecco il giorno in cui sua moglie è stata trovata cadavere morta ecco cosa ricorda di quel giorno? io sono uscito alle 5 e mezza e sono ritornato alle 7 e mezza a casa io non l'ho trovata io ho trovato solo una pentola di verdura cruda sul lavandino e mi sono anche preoccupato perché a quell'ora mia moglie è sempre stata sempre a casa e io comunque sono andato lì a chiedere comunque dove è andato lei? al ristorante Santo Spirito dunque il signor Giulio è venuto in trattoria chiedendo se avevamo visto la signora Gina la donna esercitava la prostituzione in una stanza di sita in piazza 4 Marzo 15 al quarto piano dell'edificio lui è andato su la porta era chiusa è venuto giù e ha detto che la porta era chiusa e non è noi ci abbiamo detto hai visto se c'era il lucchetto? e lui è risalito su ha visto che il lucchetto non c'era allora allora io gli ho detto non è normale che non c'è il lucchetto e la porta è chiusa si vede che magari si è sentita male e cosa visto che avevo una certa età e cosa poi mia moglie dice accompagnalo tu sopra e io l'ho accompagnato anche perché mi dava fastidio però una volta che mia moglie l'ha detto così l'ho accompagnato sopra poi comunque io ho bossato ho bossato siamo andati insieme con il padrone del ristorante e lui cercava di scardinare la porta per aprire la porta la signora di sotto i tunisini i marocchini quelle che sono quella di sotto aveva la chiave che andava a fare la pulizia sopra alla signora Gina ha preso le chiave gli ha dato le chiave al marito ha aperto e lì abbiamo aperto e l'ho trovata morta il marito è entrato ha acceso la luce e corso verso la moglie che era coricata nel letto con le gambe in giù e ho trovato mia moglie non per così era per così io come l'ho visto ho visto che era morto perché si aveva la lingua di fuori nera cosa si vedeva che la persona non era il marito è andato lì l'ha mosso un pochettino così con le mani gli ha detto non la tocchi si vedeva che la persona ha detto non strandonare ha detto non è vestita era tutta vestita scarpe cappello occhiale e due cotone qua me la ricordo come che fosse adesso due due cotone qua dal naso cotoni pezzi di cotone si ecco le gambe dove erano per terra poggiavano a terra si poggiavano a terra ecco aveva delle parti del corpo scoperte si aveva un pezzettino qua della pancia l'addome la pancia si perché era messa così per terra così era messa i piedi per terra e per qua solo il pellicco se vedeva lì c'era c'era comunque un asciugamano o lenzuolo io l'ho coperta e siamo andati subito a telefonare alla polizia quindi lei ha cercato di coprire si la parte scoperta esatto il corpo di sua moglie cercò di coprirla ha cercato di abbassargli la gonna il guido il marito l'assagli la gonna dire cosa lei aveva un foulard al collo legato annodato strettamente pantaloni neri e aveva appunto gli slip neri abbassati all'altezza della regione inguinale aveva un collante in nylon marrone con un'apertura già predisposta all'altezza del cavallo aveva delle scarpe tipo polacchine di colore marrone la causa della morte è asfissia meccanica da strangolamento assolutamente compatibile con un foulard stretto stretto al collo che era il mezzo che ha causato la morte non ci sono lesioni da difesa il che fa pensare che la vittima sia stata aggredita in maniera piuttosto improvviso e improvvisa e di sorpresa per così dire un'altra prostituta picchiata e strangolata come Motto Florentina è di due Fatima ma gli inquirenti cercano di scavare nella vita della donna per capire se il marito aveva dei motivi validi per ucciderla lei sapeva quale lavoro svolgeva sua moglie? no insomma moglie guadagnava il denaro? io non so niente di mia moglie io purtroppo l'ho trovata così non sembrava una donna insomma che potesse fare la vita una ragazza di vita ecco era una donna normale senza quei trucchi che uno dice evidenti e cose no 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 lei era semplice probabilmente il marito di Gina non sapeva qual era l'attività della moglie attività peraltro che Gina esercitava con molta dignità perché le dava un buon reddito la sua clientela dicono che fosse una clientela di abitui però non è poi così rilevante capire se il marito lo sapesse o meno perché a volte certi rapporti affettivi non si possono decifrare e certi loro meccanismi sono inesplicabili e lei cosa pensava che facesse Gina? lei andava a lavorare comunque a fare i servizi doveva a casa privata Gina contribuiva alle spese di casa? no tutto io era lei che le dava i soldi? io lavoro lavoravo sempre e lavoro anche fino adesso io ho sempre lavorato però pensate al di là dello shock del ritrovamento del cadavere in quelle condizioni quali possono essere stati i sentimenti di Giulio Vitaliano qual è la sua vita ora senza la sua compagna senza una donna che sicuramente era un personaggio particolare era un personaggio unico evidentemente lo era per molti dal momento che ancora adesso mi è capitato di passare in piazza palazzo di città e sul cubo ci sono dei mazzolini di fiori a distanza di tre anni il dolore che ho avuto io comunque solo Dio lo sa mi manca ogni domenica che vado al cimiterio perché ho mia madre qui e lei è vicino sotto sono tutte e due insieme lei sapeva un no di questa stanza? no io la prima volta che io sono entrato da quella stanza lì quando l'ho trovata morta quindi lei è stato io non so neanche la mobiglia che fino a fatto non so neanche cosa c'era non so niente io giorno del delitto ho trovato questo amministratore e mi diceva sua moglie ha quattro anni di contratto e lei dice mi deve pagare e io le ho detto ma perché io le devo pagare ci conosciamo noi dice no e allora perché lei vuole i soldi da me? all'interno della stanza la polizia scientifica trova abbondanti tracce di sangue sul copriletto sul lenzuolo sull'asciugamano tutte appartengono alla vittima vengono anche analizzati alcuni preservativi usati e pezzi di carta scottex accartocciati utilizzati dai clienti dopo i rapporti se ne ricavano sette profili biologici non identificabili ma un pezzo di carta scottex rinvenuto in un cestino svela il dna di maurizio minghella anche all'esterno dell'appartamento vengono rinvenuti due strappi di carta scottex sporchi del sangue della vittima e di materiale biologico ancora una volta con il dna di maurizio minghella la gina probabilmente è stordita parzialmente si lamenta a quel punto gina sicuramente era riversa davanti a lui e maurizio minghella ha stretto il suo foulard e l'ha strangolata la donna geme perché gli strangolamenti non sono mai così immediati geme e minghella maurizio prende l'asciugamano lo mette sulla bocca della donna e impedisce che la donna venga sentita ha soffocato le sue grida i suoi rantoli con l'asciugamano poi si pulisce le mani sui frammenti di carta esce di casa chiudendo a più mandate la serratura e gli cadono i due frammenti di carta lungo le scale che lo incastrano c'è un'ultima domanda a cui deve rispondere il processo ed è questa maurizio minghella che ha commesso questi efferati delitti è un uomo capace di intendere e di volere a questa domanda così risponde il consulente dell'accusa la nostra conclusione è che egli è persona capace di intendere e di volere non si sono rilevate elementi significativi per quanto riguarda episodi depressivi maniacali ipomaniacali o misti nel minghella è presente un certo grado di iperestesia sessuale nel senso della ripetuta masturbazione anche in presenza della possibilità di soddisfare in modo differente i propri desideri sessuali nel corso dell'anamnesi il minghella riferisce di necessitare di almeno due orgasmi al giorno quando non di più le perizie tutte conducono ad un'unica univoca conclusione che il minghella è capace di intendere di volere che era capace di intendere di volere nel momento della commissione di tutti i fatti e che è capace di stare in giudizio noi possiamo sapere perché minghella uccide perché in lui scatta un qualcosa che forse non sappiamo bene la scienza non riesce a darci una spiegazione di che cosa sia ma in lui scatta e fa sì che non riesca più a fermarsi il nome del popolo italiano la corte d'assise di torino sezione prima ha pronunciato la seguente sentenza dichiara minghella Maurizio colpevole dei reati di cui ha i capi 30 31 e 32 omicidio aggravato di Motoc Florentina vilipendio e parziale distruzione del cadavere della stessa lo condanna la pena dell'ergastolo applica a minghella Maurizio la pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui ha i capi 3 omicidio di Didù Fatima e 34 omicidio di Guido Cosima Betagina visto l'articolo 530 comma 2 codice di procedura penale assolve Minghella Maurizio dai reati iscritti dai capi 1 e 2 omicidio della donna non identificata di Carmagnola e distruzione aggravata di cadavere per non avere commesso il fatto Maurizio Maurizio è stato assolto con formula dubitativa solo per l'omicidio della donna bianca sconosciuta di Carmagnola ma ci sono ancora 13 rapine e aggressioni tutte commesse ai danni di prostitute di cui Minghella deve ancora rispondere lei ha subito delle aggressioni mentre lavorava in strada si tipo di rapporto le chiedo prima ho fatto di bocca con la bocca si con il preservativo non veniva duro quindi mi ha detto di girarmi così magari si eccitava di più il tempo che mi sono girata mi colpisce con i pugni in testa cado per terra sono svenuta ho perso i sensi cosa le ha preso? i soldi quanti soldi aveva? abbastanza aveva un milione e cinque cent la cheva poi esperirà una ricognizione di persona in sede di incidente probatorio e il 9 di maggio del 2001 dirà sono sicura con estrema quindi sicurezza riconosce il Minghella nel maggio del 99 ha subito un'aggressione da parte di un individuo che poi lei ha riconosciuto Michela Maurizio Michela Maurizio secondo me io lavoravo alla prostituzione è venuto quel motorino e mi ha detto le cose di lavorare secondo me il prezzo era da 50.000 lire lui mi ha detto vieni portami un posto tranquillo che ti do 100.000 lire mi ha portato a un posto che era Gran Turchi queste cose lì e mi ha detto che devi spogliare come ce l'hanno io o meno sono andata lì e ho detto primi soldi ho tirato il preservativo e lui mi ha detto non facciamo niente con preservativo voglio solo guardarti e basta mi ha detto girati mi sono girata mi ha preso i capelli lì c'è un canale piccolina mi ha messo il muso sul canale con un cortello mi ha tirato tutte le vestite mi ha lasciato nuda e poi gli ha fatto altre cose mi ha volentato per la forza il sedere davanti mi ha dato i calci mi voleva anche cortellare comunque come io l'ho detto nel senso che ha detto una bugia a lui che aspetta un bambino e lui ha detto se è fermata che storia le ha raccontato io con lui lui mi ha raccontato una storia che come gli ho detto che aspetta un bambino lui mi ha raccontato una storia della sua famiglia che mia moglie era incinta sua moglie sua moglie ha abortito ha abortito ha visto tanto sangue da lì è venuto un po' pazza che ha cominciato a piccare la prostituzione adesso è infortunata che aspetta un bambino perché io per i bambini vado pazzo le portò via delle cose che cosa le portò via mi porta via una colana che è scritta la via una colana una colana che è scritta la via mi porta via la fede il braccialo l'arogio il cellulare poi mi ha portato cinque orecchini cosa? cinque orecchini cinque orecchini e le aveva due, quattro e tre la donna dice l'aggressore mi aveva rapinato di una colana che aveva un ciondolo con sovra scritto I love you Minghella Maurizio le cose che rapinava le mandava a Genova dai suoi familiari quindi la procura dispone una perquisizione ai danni dei familiari dei Minghella Maurizio e lì troviamo gioielli pellicce e quant'altro tra questi gioielli ce n'era uno che aveva un ciondolo con sovra scritto I love you mi ha fatto due schiafi e poi mi ha cercato aveva una colana d'oro pure orecchini mi ha tolta mi ha tolta anche la colana l'ha tolta? sì sì cioè l'ha tolta l'ha sganciata? no no proprio prestrappata brava poi l'ha picchiata? sì un pugno su viso cioè proprio non ho capito neanche io come ha picchiato quel momento lì però mi ha picchiato comunque poi un giorno dopo non sono andata anche a lavorare perché stavo male mi ha detto ti prego non mi farei male facciamo quello che vuoi e poi voleva fare le sue cose a questo momento mi toccava mi dice che sei buona quello e l'altro poi mi ha chiesto che voleva fare senza guando ho detto non posso fare senza guando senza preservativo senza preservativo profilato sì e poi ho cominciato a fare i pompini scusa per la frase non veniva neanche e poi mi ha detto stai lì ferma fino a quanto io proprio sparisco da qua poi quel momento lì è sparito è andato via con il motorino? sì sì certamente con il motorino con il scooter la sciabani riconosce in sede di individuazione fotografica il Minghella e in sede di l'incidente probatorio tenuto il 23 maggio 2001 ricognizione personale dirà sono molto sicura che sia lui molte delle ragazze aggredite non hanno avuto la forza di venire in aula a raccontare ciò che gli era successo perché erano state troppo segnate da questa esperienza parla per loro quindi il pubblico ministero e il medico legale mi raccontò brevemente di quello che accade del contatto che ebbe con questo aggressore del luogo in cui decisero di appartarsi e del fatto che lei capì che le intenzioni dell'aggressore non erano pacifiche e quindi tentò immediatamente di scappare scappando fu raggiunta da questo aggressore fu presa per i capelli che allora portava lunghi e fu trascinata e poi mi ha dato un pugno sul collo mi ha dato un pugno forte e io mi son caduta per terra e niente poi come ero lì per terra ha cominciato si è sbottonato quindi il cliente inizia ad abusare sessualmente della donna costringendola prima ad intrattenere un rapporto di tipo vaginale ma non riesce ad ottenere l'orgasmo e successivamente un rapporto di tipo anale io mi sono messa a urlare mi sono messa l'erba nella bocca perché avevo tanto dolore la testa scoppia a piangere e poi dice e ti ammazzo e non ti ammazzo anche se vai dalla polizia loro non mi trovano a me lo sai cosa mi fanno mi fanno una sega questo mi fanno perché io sono più furbo ti ricordi per quella ragazza lì a Rivoli che è stata ammazzata e bruciata sono stato io io hai capito e poi dice e quell'altra ragazza altra lì a case lette e stiamo parlando di Didù Fatima hai sentito sì l'ho ammazzata io la donna a questo punto dice all'aggressore fammi indossare le mutande e lasciami il passaporto perché così se mi ammazzi mi trovano con le mutande e mi riconoscono c'è il mio passaporto e poi la donna ha un colpo di genio che probabilmente le salva la vita perché inizia col dire all'aggressore che lo avrebbe voluto come protettore e poi dice la donna come metà convinto come ho convinto di questa cosa lui dice vabbè ti lascio ecco tutto questo discorso che abbiamo tradotto abbiamo cercato di descrivere in più di dieci minuti è durato quattro ore per la donna si è assolutamente curata da sola con una crema per il viso mi ha detto si è recata in farmacia una volta tornata a Torino subito dopo il fatto e si è curata non ha mai avuto comunque problemi la donna riconoscerà la foto dell'aggressore lo riconosce viene dal pubblico ministero e denuncia molte delle donne che sono state aggredite hanno fatto la denuncia e poi hanno fatto perdere le loro tracce sono sparite sono state quindi ascoltate in aula le loro amiche per verificare se ciò che avevano dichiarato agli inquirenti corrispondeva alla verità oppure era frutto di fantasia o mitomania ha conosciuto una ragazza polacca si che era a pochi metri da me come si faceva chiamare? dipende il suo vero nome era Magdalena Magdalena e il cliente si faceva chiamare Elisabetta ricorda se Elisabetta o Magdalena subì un'aggressione si mi ricordo che io sono tornata con un cliente che lì dove nella nostra zona era un parco e lei era seduta su una banchina io la vedevo sconvolta aveva le calze rotte qualche graffio così le ho chiesto cos'è successo e lei mi ha raccontato che è andato via con un cliente in motorino e poi lui le ha aggredito le ha rubato la borsa lei visto che ha tentato di reagire si è fatto male la c***a così racconta l'accaduto io ho preso un preservativo sulla borsa e lui dice spogliati io dico no no spoglia e con forza mi ha spogliato e quindi l'uomo le impone un rapporto sessuale orale e poi vaginale ma questa ragazza polacca ha denunciato una cosa veramente incredibile infatti racconta che dopo l'aggressione subita si trovava per caso a Torino davanti alla stazione di Porta Susa ebbene lì quando vede il proprio aggressore accanto a un motorino lei è con due amici prende la targa del motorino e denuncia questo fatto alla polizia ferroviaria di Torino ecco sentiamo adesso come sono andate le cose ricorda di una ragazza che vi chiese aiuto nell'agosto del 98 si era fino agosto 98 noi stavamo uscendo dall'ufficio incrociamo questa ragazza che non si faceva comunque non riuscivamo a capirla perché parlava nella sua lingua non riuscivamo a capire cosa diceva e ci ha fatto segno di seguirla noi siamo usciti verso la piazza esterna della stazione davanti alla stazione e lei ha indicato col dito in mezzo alla piazza praticamente noi ci siamo girati e la prima cosa che abbiamo notato è una persona che è scappata via a che gli siamo andati dietro l'abbiamo raggiunto e l'abbiamo invitato a seguirci in ufficio dopodiché mentre lo accompagnavamo in ufficio ha strattonato non siamo riusciti a fermarlo ha scavalcato e si è buttato giù di sotto e ha cominciato a correre a sinistra in direzione Porta Nuova poi si è dileguato si è dileguato ed è scappato alla ragazza cosa le avete detto la ragazza comunque abbiamo cercato di fargli capire se doveva fare una denuncia o qualche cosa di recarsi in questura Magdalena la domanda del pubblico ministero che le chiedeva ma lei perché il giorno dopo non si è recata come le avevano detto i poliziotti in questura per fare denuncia lei dice mamma mia ma se io li porto una persona loro se lo fanno scappare io il giorno dopo vado in questura la ragazza vi indica anche un ciclomotore no la ragazza ci portava fuori della stazione ferroviaria e precisamente sul piazzale antistante e ci indicava il ciclomotore precitato a tal punto abbiamo preso il ciclomotore e l'abbiamo portato nel nostro ufficio ma è vero che questa ragazza quando la vedete vi indica un individuo e un ciclomotore no, il ciclomotore no perché allora ha dichiarato queste cose alla squadra non ho ricordo di aver dichiarato quello probabilmente hanno capito male lei è tenuto a dire la verità si, si lo so la s***** indica la targa 7Y660 e Minghella in quel periodo aveva un motorino grigio che era targato 7Y66D quindi l'ultima cifra la donna confonde 0 con D è anche abbastanza simile confondere guarda caso voi quel giorno trovate un motorino lo rinvenite è andata così non quale delle due versioni è più attendibile senza dubbio io direi la versione della donna perché perché la donna non ha motivo di mentire perché dovrebbe venire a raccontare tutte queste cose perché quel motorino è stato trovato guarda caso lì quella sera e quindi mi corre l'obbligo di evidenziare che i poliziotti non hanno fatto il loro dovere e quindi mi corre l'obbligo di criticare aspramente questi poliziotti e probabilmente il Minghella sarebbe stato fermato fin da allora gli sarebbe stata revocata la semilibertà 23 agosto 1998 ricordiamo in quali date sono stati commessi altri omicidi 30 gennaio 99 l'omicidio di Guida Cosima 9 febbraio 2001 l'omicidio di Motoc Florentina questo per dirvi che se avessero fatto il loro dovere perlomeno ci saremmo evitati due omicidi il nome del popolo italiano la corte d'assise di Torino sezione prima ha pronunciato la seguente sentenza dichiara Minghella Maurizio colpevole dei reati di cui ha i capi 15 16 17 rapina aggravata e violenza sessuale sequestro di persona e lesioni in danno di Demirai Alcheta lo condanna alla pena di anni 13 di reclusione e di Euro 3.000 di multa rapina aggravata e violenza sessuale in danno di Kellici Alma lo condanna alla pena di anni 10 mesi 4 di reclusione ed Euro 2.500 di multa la corte ha condannato Maurizio Minghella a 128 anni e 4 mesi per tutte le 13 rapine commesse ai danni delle prostitute Maurizio Minghella ha commesso questi delitti tutti questi delitti quando era in semilibertà in regime di semilibertà ebbene bisogna dire che è stato commesso un errore un errore imperdonabile a lasciare libero Maurizio Minghella ma io voglio fare con voi ugualmente un ragionamento le statistiche dicono che i semiliberi coloro che sono messi in semilibertà commettono ritornano a commettere reati e raramente della gravità di Maurizio Minghella solo lo 0,3% cosa vuol dire questo? vuol dire che su mille persone tre ritornano a delinquere ebbene guai guai dico a toccare questo regime di semilibertà a togliere la speranza alle persone perché per tre persone che sbagliano vengono colpiti 997 che si comportano bene è una ritorsione nazista ecco voglio aggiungere un'ultima cosa di cui sono veramente molto preoccupata noi stiamo andando verso una società che mi sembra si stia un po' imbarbarendo e questo a mio parere è dovuto soprattutto perché tutti ragioniamo con la pancia e mai con il cuore e con il cervello che si stia un po'